Era legittimo pensare che la sorpresa di queste prime gare 1 di playoff LBA fosse stata la vittoria di Reggio Emilia-Venezia, ma invece ieri sera abbiamo assistito alla vera sorpresa, tra virgolette, perché poi guardando la stagione forse non è proprio così sorpresa, sorpresa di Trento che ha vinto al forum 85-84 sull'Olimpia. Amici di Olimpia Improvvisa Passione, ben ritrovati, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei nostri contenuti e per non perdere le esilaranti avventure di questa Olimpia che continua a, non lo so, definitelo voi, continua a fare che cosa? A sorprendere? No, perché non ha sorpreso. Continua a far arrabbiare? No, perché alla fine c'è l'assegnazione. Continua a scendere sempre più giù? Sì, può darsi. E infatti per quello che ho intitolato questo video, commento, è meglio andare in vacanza, perché alla fine dopo aver perso gara 1 male, molto male, sarebbe meglio che Trento vincesse anche gara 2 che si terrà domani sera alle 20 sempre al forum e poi gara 3 di venerdì a Trento per mettere fine all'agonia di questa stagione che sembra non avere fine. Ieri partita pessima per 30 minuti, salviamo solo i primi 10 minuti quando Milano ha segnato 32 punti e Trento solo 21, quindi un inizio che faceva ben sperare, soprattutto dopo la notizia che Billy Baron, che non si vedeva da dicembre, era presente nei 12 convocati. Quindi bene, molto felice di rivederlo, ma un minimo di dubbio era lecito, perché comunque dopo 5 mesi di inattività o comunque di non presenza in campo, effettiva non sapevo come l'avremmo trovato a livello di condizione e probabilmente un giocatore che è lontano dal campo per 5 mesi, come dice uno dei miei maestri di basket, o ti fa la partita della vita e quindi fa 50 punti, oppure fa molta fatica. Ecco, decisamente la seconda, perché nonostante i suoi 5 punti, tre dei quali su tripla e due su liberi, Baron non ha difeso niente, è stata una porta girevole, come è stata definita da più parti in difesa, e quindi la condizione è stata quella che non ha aiutato in nulla l'Olimpia a arginare gli attacchi di Trento. Attacchi di Trento che nel primo quarto sicuramente non sono stati incisivi, non sono stati sufficienti, in quanto hanno messo a segno 21 punti, che in realtà non sarebbero neanche pochi, considerato che poi negli altri quarti hanno messo 22, 26 e 16 punti, mentre l'Olimpia 11, 21 e 20. Quindi è stato il secondo quarto che ha fatto la differenza per quanto riguarda l'Olimpia, però diciamo Trento ha saputo correggersi in corsa, e quindi dopo un primo quarto diciamo un po' spento, un po' non caratterialmente deciso e quindi sicuramente non erano forse andati in partita o comunque non so che cosa gli era successo, hanno cominciato a giocare come sono capaci e se nel terzo quarto hanno messo 26 punti innanzitutto al riposo siamo andati su 43 pari e quindi hanno saputo riequilibrare il match. E poi nel terzo quarto quarto ce la siamo sempre giocata in parità perché più 2, meno 2, parità, quindi siamo sempre stati lì per tutti gli ultimi 20 minuti. Detto di Baron che è tornato a disposizione di Messina, ma sul quale io appena ho appreso la notizia avevo dei seri dubbi perché comunque non mi potevo aspettare chissà quale prestazione da lui che era lontano dai campi da 5 mesi. Quindi fuori Voitman, fuori Poitres, fuori Law e fuori chi altro era fuori? Non mi ricordo chi altro, comunque due lunghi fuori per far posto a Baron che è sicuramente una guardia e che come ha detto Messina probabilmente doveva bastare nel senso che per le rotazioni contro una Trento che aveva solamente due lunghi Ainz e Melli, come leggeremo poi nelle dichiarazioni del coach milanese, dovevano sicuramente bastare. Poi è successo un po' di tutto perché Ainz, questo momento francamente, dico la verità, me lo sono perso, ma come ho letto da più parti, ha mandato un po' a quel paese Messina, la panchina in generale o comunque Messina in particolare. E quindi se Ainz ha questo scatto di nervosismo, questo scatto di contrarietà verso la panchina e in particolare verso il coach, direi che ci dobbiamo fare qualche domanda perché Ainz non è solito fare questo tipo di esploi, tenere questo tipo di comportamento, quindi se anche Ainz è esasperato c'è sicuramente qualcosa che non va. E come ho scritto nel mio post, che potete ritrovare sulla pagina Facebook e Instagram di Olimpia Improvvisa Passione, quando i momenti più coinvolgenti della partita sono nell'ordine il rientro in campo di Billy Berron dopo sei mesi e il tributo del forum a un certo Bruno Cerella che ha giocato la sua ultima partita in carriera con Treviglio tre giorni fa, quindi uno degli uomini Olimpia più amati in assoluto di tutti i tempi e che forse anche adesso ci farebbe comodo nonostante le sue 37 primavere o 36 che siano, non lo so, perché ci ha già perso una scommessa con l'età di Bruno Cerella, quindi non mi avventuro più a dire quanti anni ha Bruno Cerella, però sicuramente almeno 35-36 li ha. Quindi un giocatore che farebbe comodo all'Olimpia in questa situazione, ecco, quando i momenti più coinvolgenti della partita sono questi, di un play-off, di una gara 1, di quarta di finale di play-off, c'è qualcosa che non va. In realtà non è vero, perché un momento coinvolgente o quantomeno singolare e che poteva attirare l'attenzione di tutta la partita c'è stato al minuto 6.06 mi sembra quando mancavano 6 minuti e 6 secondi circa del secondo quarto, quando c'è stato il cambio Napier-Shields. Fuori Napier, dentro Shields, Shields allunga la mano verso il compagno di squadra per farsi dare il 5, per rendere ufficiale e come liturgia il cambio stesso, ma Napier passa via indisturbato manco guardando in faccia il compagno di squadra. e al che Shields, colto da un momento di, non lo so, ironia o di automotivazione oppure di presa di coscienza di una situazione allo sbando, si autoda il 5. Quindi si batte con la mano destra sulla mano sinistra per darsi in autonomia e indipendenza il 5 e se ne torna in campo per portare avanti la gara. Quindi siamo a metà del secondo quarto. Ora, io all'inizio pensavo di aver equivocato e quindi di aver capito male la situazione, invece la scenetta è proprio stata quella che vi ho descritto, cari amici, ossia un Napier che passa via, non guarda nemmeno in faccia il compagno, se ne va con le orecchie basse in panchina perché comunque fino ad allora stava stava giocando una partita sicuramente non tra le più indimenticabili. Infatti anche ieri, nonostante i suoi 14 punti, Napier non l'ho visto assolutamente bene. Una palla che sia una che abbia saputo passarla e quindi fornire un assist per un compagno in modo che andasse a segnare, io francamente non lo ricordo. Quindi io di ieri non salvo nessuno, se non Schiltz, ma solo per il numero di punti e non certo per il carattere, per la voglia di fare, per la voglia di vincere, perché comunque anche lui ha sempre giocato da solo. Palla Schiltz e vediamo che cosa succede. E quindi una volta ti va bene, due volte ti va bene, la terza forse cominciano a prenderti le misure, gli avversari. E infatti nel terzo quarto quarto e anche già un po' nel secondo, gli avversari lo bloccavano quanto più potevano, quindi gli bloccavano le penetrazioni in aria, i tiri da lontano già entravano o non entravano perché comunque dopo le percentuali buone del primo quarto, così come dimostrato dal punteggio di 32 punti, hanno cominciato un po' a scendere. Detto ciò possiamo andare a vedere le statistiche, anche se comunque io francamente su questa partita ho poco da dire perché comunque iniziare una serie di playoff con una sconfitta in casa, con Trento che sicuramente avrà gettato il cuore oltre l'ostacolo ieri, quindi tutta presa dalle energie ai massimi livelli che poteva avere comunque in gara 1. E domani sera voglio vedere se avrà lo stesso tipo di energie, ma domani sera io mi aspetto una partita diversa. Non lo so se aspettarmi una partita dell'Olimpia sugli scudi, quindi con una voglia di spaccare tutto e di andare a prendersi gara 2, ma questo appunto lo scopriremo solo domani sera. Trento non lo so perché comunque è forte di gara 1, probabilmente, non lo so, farà in modo di salvaguardare il piccolo vantaggio preso, anche se sappiamo che sì, è vero, ha vinto gara 1, ma ancora tutto è possibile, anche perché sinceramente l'Olimpia sulla carta, quantomeno, è superiore dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della profondità del roster, dal punto di vista della forza della squadra, nel senso che se l'Olimpia decide di giocare, non ce n'è per nessuno l'Olimpia, va tutto il Real Madrid, va tutto il Barcellona, va tutto l'Olimpia Cos, insomma, vorrei sperare che non sia un'impresa impossibile battere questa Trento, che ha fuori dei singoli, dei giocatori che sono molto importanti per l'economia della squadra, vedi Udom, vedi Grajulis, ma ha trovato anche questi giocatori che hanno magari medie non esaltanti, come Cook di ieri sera, che ha infilato almeno forse 5-6 alle Jupe, che fanno molto male, e che sembrava poter sconfiggere, o comunque tenere a bada e battere la difesa Olimpia, praticamente da solo. E questi canessi fanno veramente, veramente male, perché ti rendi conto che l'Olimpia, che la difesa non è in grado di difendere, e infatti ieri abbiamo decisamente difeso malissimo, dall'undicesimo minuto in poi, molto discontinua, molto distratta, molto leggera, e quindi di conseguenza con una difesa così, non ti puoi aspettare un attacco incisivo e efficace. Quindi andiamo a vedere le statistiche, come ho detto, percentuale totale al tiro 52.5 contro 42.4 nostro, quindi una netta prevalenza di Trento, con 25 su 59 per noi e 32 su 61 per loro, tiri da 2, 18 su 35 per noi e 21 su 32 per loro, quindi anche qui un 65 contro un 51%, tiri da 3, 29 contro un 37, quindi 7 su 24 per noi, contro 11 su 29 per loro. Allora entrava anche un po' tutto, sinceramente, sì, hanno fatto un'ottima partita dalla distanza, infatti in fase di presentazione, anche lo stesso coach Galbiati diceva, speriamo che, speriamo di poter contare sul nostro tiro da lontano, quindi sanno che è una delle loro armi e ieri sera devo dire che ha funzionato abbastanza bene. Tiri liberi 31 per noi, 27 segnati contro i 12, 10 segnati per loro, quindi abbiamo concesso pochi tiri liberi, noi ne abbiamo lasciati solo questo sul tappeto, ma è quindi tutto sommato anche abbastanza bene, ma quando c'è stato il momento di fare fallo, così come vediamo tra poco, l'Olimpia ha valutato male e non è la prima volta, ma tra poco ci arrivo, rimbalzi in attacco 8 a 6 per noi, 25 a 24 in difesa, con 33 a 30 in totali di rimbalzi, quindi tutto sommato noi abbiamo prevalso assist 16 a 23 per noi, infatti ieri sera, ieri come ho detto Napier, non ricordo che abbia passato un pallone ed è lui il player, Flaccadori ha fatto peggio che peggio, quindi non possiamo contarvi su di lui, e quindi su di loro, soppate 1 a 0 per noi, palle perse 8 a 14 per loro, quindi noi anche poche palle perse, devo dire, palle ruvate 9 a 4 per loro, per noi scusate, e falli personali 17 a 25, ma sull'ultima azione, quella che ha portato al canesso decisivo di Baldwin, Baldwin era? Sì, mi pare di sì, comunque sia, il canesso decisivo ha con 10 secondi da giocare per Trent, dopo che Schiltz aveva segnato i due tiri liberi, quindi c'eravamo portati sull'84 a 83, avevamo un fallo da spendere, e giustamente abbiamo pensato di spenderlo sull'azione di tiro, quindi fallo più canestro valido, perché il giocatore di Trento ha infilato il canestro, è andato in lunetta, ha appositamente e volontariamente, scientemente sbagliato il libero, portandosi sul 85-84 in quanto il canestro era valido, e l'Olimpia con due secondi da giocare, Melli ha provato un tiro praticamente dall'arco difensivo dell'Olimpia, ma non è neanche arrivato al ferro, quindi sbancato il forum da parte di Trento, e Trento che se ne va in hotel, e vive questa giornata di vigilia in attesa di gara 2 di domani, con tutte le migliori sensazioni che si potrebbero avere dopo una gara 1 di playoff. Vero è che è solo gara 1, quindi c'è tutto il tempo e il modo di recuperare, di svoltare e quindi di ribaltare la sedia, ma bisogna vedere se l'Olimpia ha voglia di fare questa operazione, perché se Shields ieri ha messo a segno 27 punti, non è detto che domani sera possa fare uguale, e se Shields non funziona, non vedo chi possa prendere il suo posto, perché il secondo miglior marcatore dell'Olimpia è Napier, con 14 punti, e poi segue Mirotic con 13 punti. Ora, non avendo un gioco, non avendo azioni, non avendo idee, e non avendo schemi, è anche logico che Mirotic non possa essere decisivo, ossia la palla arriva a Mirotic quando dentro non si può andare, lui si trova sull'arco e scaglia una delle sue triple, ma ieri ne ha messe 3 su 8, quindi voglio dire non propriamente decisivo, ma ieri sera non è stato nessuno decisivo, a parte i 27 punti di Shields che, ok, sono sicuramente importanti, lo possiamo leggere come MVP, ma solo per il numero di punti, come ho detto prima, 27 punti, 8 rimbalzi e 2 assist in 33 minuti, quindi, già il fatto che abbia dovuto giocare a 33 minuti, non depone a buon favore, non depone a favore per la partita di Maesia, perché, presumibilmente, potrà risentire un po' della stanchezza, ma 8 su 13 da 2 e 1 su 1 da 3, e 8 su 10 ai liberi con un plus-minus di 5, sì, sicuramente MVP della serata dal punto di vista statistico, ma non lo so, io non ho sentito il giocatore che ha dato la scossa, che ha preso per mano la squadra, che poteva condurre la squadra alla vittoria, e no, assolutamente no, come poteva essere stato Melli, contro, che, qual è stata l'ultima partita, a Cremona, l'ultima partita di regular season, ecco, Melli lì, sul finale, ha preso la squadra sulle spalle, ha messo una tripla, ha fatto una stoppata, e abbiamo portato a casa la partita, sempre di un punto, ma comunque abbiamo vinto, ecco, ieri sera io non ho mai avuto questa sensazione, perché purtroppo ognuno giocava per conto suo, la squadra era andata a farsi benedire, e quindi proviamo, proviamo a darla a qualcuno, se qualcuno sa mettere dentro, meglio, se no, pazienza, tanto lo stipendio, alla fine del mese, a noi arriva lo stesso. Ora, mi dispiace dire così, però ci sono delle partite in cui, davvero ti portano i giocatori, a dire questa cosa, e ora possiamo dare tutte le responsabilità del mondo a Messina, ma in campo non ci va Messina, in campo ci va Schiltz, ci va Napier, ci va Miertic, ci va Melli, Tonut, e compagnia cantante, quindi voglio dire, questi giocatori, non si possono prendere le responsabilità, non si possono prendere la briga di dire, ok, non siamo stati al massimo, ok, abbiamo bucato la partita, ok, è colpa nostra. Ora, le responsabilità di Messina, probabilmente le conosciamo, perché anche lui comunque va ripetendo le stesse cose da otto mesi, e quindi anche saremo anche stanchi di sentire le stesse parole, che in conferenza stampa iniziano sempre con i complimenti all'avversario, basta, non li facciamo più i complimenti all'avversario, vinciamo e ce li facciamo a noi stessi, i complimenti, perché continuando a fare i complimenti all'avversario, continuiamo a nutrire l'autostima e la speranza di questi avversari che vengono a Milano, o comunque incontrano a Milano, con il coltello fra i denti, e qualcosa di buono alla fine riescono sempre a fare. Questo Cook, che ieri ha segnato 21 punti, ho letto che di media ha 6 punti, cioè non puoi concedere 21 punti a un giocatore, 8 rimbalzi in un assist in 27 minuti, con 10 su 11 da 2, e 1 su 2 dei liberi, cioè c'è qualcosa che non va, c'è deve essere sempre il fenomeno di turno che contro l'Olimpia riesce a fare la partita della vita, no, 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 e anche basta. Scusate amici, ma dopo una prestazione di ieri sera, veramente io le avrei mandate tutti quanti a fare i lavori forzati, perché non si può, cioè lo sappiamo da metà aprile, che l'unico obiettivo rimasto è il campionato, è lo scudetto, sono i playoff, quindi è la post season, e tu ti presenti il 12 maggio, fornendo una prestazione del genere? Ma anche no, perché comunque mi fai pensare che in questo mese, come hai lavorato? Che spirito c'è nella squadra? Dopo la scenetta tra Napper e Schiltz, cosa devo pensare che si viva all'interno dello spogliatoio? Che atmosfera ci deve essere? Con giocatori che manco si guardano in faccia, che manco si incoraggiano a vicenda, e con Heinz che manda appunto a quel paese la panchina? Heinz, Kyle Heinz, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va, ma a maggio è un po' tardi per correggere il tiro, dovevamo farlo a settembre, ottobre, novembre, gennaio, quando abbiamo visto che già dall'Eurolega eravamo fuori, è decisamente tardi, non tardi per la serie, perché domani sera basterebbe vincere gara 2, e poi sperare di andare a vincere le gare 3 e 4 a Trento, cosa che non è impossibile, perché abbiamo comunque già vinto a Trento quest'anno, anzi, come ha detto Messina, abbiamo vinto tre volte su tre con Trento quest'anno, sia in campionato, andate e ritorno, sia in Coppa Italia, al quarto di finale, Olimpia a Trento abbiamo vinto, e anche bene, insomma, senza particolari patemi, ma siamo arrivati ai playoff, non lo so, o convinti di aver già passato il turno, ma non credo, oppure perché la squadra è allo sbando, e ha la testa alle vacanze, e allora come ho scritto prima, come ho scritto come titolo, forse sarebbe meglio andare in vacanza, sperando poi che l'anno prossimo ci siano delle idee più chiare, o sempre come ho scritto nel mio post, ci siano semplicemente delle idee, perché quest'anno ne abbiamo avute poche, e anche ben confuse, quindi non lo so, bisognerà fare un ripensamento profondo, onesto e totale, sulla stagione 2024-2025, perché io una roba così, vorrei tanto non rivederla mai più, vorrei non rivedere mai più, uno spettacolo indegno, e da più parti, da più tifosi, sento dire, io l'apponamento, l'anno prossimo, non lo rinnovo, perché per vedere questo scempio, anche no, gente che, non andrà a vedere gara 2, domani sera, perché è una sofferenza totale e completa, e ingiustificabile e inimmaginabile, vedere questa squadra, che non gioca, come sta mostrando, da tutta la stagione, perché non posso dire che sia stata solo ieri sera, ma è da settembre, che vediamo questo, questo spettacolo indegno, quindi abbiamo detto, Schiltz 27 punti, Napier 14, Miro Tic 13, Melli 8, anche Melli ieri non bene, 7 assist e 7 rimbalzi e 4 assist, va bene, ma non ha fatto il capitano, cioè non l'ho mai sentito, non l'ho mai visto dentro la partita, non l'ho mai visto con la faccia cattiva, ecco intendiamo Cito Nutt, che ha clamorosamente sbagliato, l'ultima azione, perché su 10 secondi, con un fallo da spendere, probabilmente avresti dovuto fare un fallo, prima dei due secondi, e prima che il giocatore di Trento, stesse per tirare, ma anche qui, così esattamente come è successo, contro il Bayern Monaco, che ci è costato il supplementare, e poi la sconfitta, abbiamo commesso lo stesso errore, quindi devo dire che gli errori, non insegnano, almeno all'Olimpia, non è così, quindi Tornut, 8 punti, 3 rimbalzi, 2 access in 23, in 27 minuti, ecco, Bdica ha messo a segno una tripla, e quando dico che Bdica ha messo a segno una tripla, direi di aver fatto la fotografia della partita, perché se anche Bdica si permette, o comunque riesce a segnare da fuori l'arco, attenzione, forse dobbiamo registrare qualcosa, Alviti, i due ex, i due ex, Bdica e Alviti, che hanno fatto, in totale, 13 punti, Quinellis, che è il, un giocatore che si dice, l'Olimpia stia seguendo, per la prossima stagione, metti 5 minuti, 6 punti, 5 assist, 5 rimbalzi, a ridaglie, e 2 assist, Billy Bear ha messo i 5 punti, che, ok, ci hanno emozionato, quando è arrivato, tornato in campo, ci ha emozionato, quindi il forum è esploso, quando ha messo a segno la tripla, ma dopodiché, non è un giocatore, secondo me, presentabile dopo 5 mesi, in una fase così importante, come i playoff, poi, oh, io non sono messina, non vedo i giocatori, allenarsi tutte le settimane, quindi, come lui ha detto, pensava che fosse utile, una guardia in più, infatti questo è stato il risultato, all, 5 punti, 5 rimbalzi, e 2 assist, in 19 minuti, non per niente decisivo, all, solo con i liberi, ci ha, ci ha aiutato, quindi 5 su 5, quindi sui 5 punti, arrivano tutti dai liberi, Hines, 4 punti, 5 rimbalzi, in 14 minuti, Flaccadori, niente, e Ricci, soprattutto, Ricci, davvero, inguardabile, ieri, nei suoi 11 minuti, non ha, non ha fatto niente, un rimbalzo, e un assist, ma, molti, molti tiri, aperti, soprattutto da 3, 0 su 3 da 3, e 0 su 2 da 2, quindi, il Canesso, non l'ha visto, neanche per sbaglio, non è entrato Caruso, non è entrato Bortolani, quindi, anche qui, le rotazioni, ci sono, cioè, Messina se le è autolimitate, perché, ha escluso dai giocatori, entrati in campo, due italiani, che sono appunto, Bortolani e Caruso, che, non vedo, che, cioè, non so, quanto peggio avrebbero fatto, rispetto, ai, ai giocatori, che sarebbero andati, a sostituire, andiamo a vedere, velocemente, il tabellone, perché, non c'è un attimo di tregua, e stasera, si ritorna in campo, per gara 2, con Virtus Bologna, e Tortona, la Virtus, già in, in vantaggio, contro Tortona, nonostante, fino a metà partita, sia stata, non proprio così, tranquillamente, in vantaggio, ma con un terzo quarto, degno di nota, ha ristabilito le distanze, e si è portato a casa, tranquillamente, gara 1, Venezia Reggiana, stasera, gara 2, al Tagliercio, con, Reggio, che ha fatto vedere, delle belle cose, e Venezia, che invece, io ho visto pochi minuti, della partita, non sembrava, particolarmente, sul pezzo, però, appunto, la sorpresa, che pensavamo, potesse essere, la sorpresa, in assoluto, di gara 1, è già avvenuta sabato, quindi, mi aspetto, una reazione di Venezia, e, una serie, che possa andare, sull'1 a 1, e poi, domani sera, Olimpia Milano, Trento, che spero, possa portarsi, sull'1 a 1, ma non lo so, perché forse, alla fine, appunto, come ho detto, sarebbe meglio andare in vacanza, e Brescia Pistoria, che secondo i piani, è 1 a 0, per Brescia, andiamo a leggere, le dichiarazioni, di Messina, allora, Messina ha così commentato, anche se la partita, l'ha vinta, con l'ultimo di tiro, di Baldwin, quindi dicevo bene prima, Trento, ha meritato di prevalere, noi, li avevamo battuti, tre volte su tre, quest'anno, e abbiamo giocato bene, nel primo quarto, da quel momento, la nostra difesa, è diventata scadente, in attacco, abbiamo giocato una gara, poco ordinata, e poco disciplinata, ma 84 punti, dovrebbero bastare, per vincere, ma non è successo, abbiamo perso gara 1, e dobbiamo rimetterci, al lavoro, per gara, per vincere gara 2, a proposito, della scelta, di utilizzare, Billy Baron, Messina dice, che siamo convinti, lo eravamo prima, e lo siamo adesso, che ci servisse, una guardia in più, loro hanno ruotato, due soli lunghi, spesso giocando piccoli, Cook, ha giocato una grande partita, ma credo che Melly, e Heinz, debbano bastare, ci sono aspettative, di qualità di gioco, da esprimere, se non bastano, allora il problema, è più serio, in attacco, come ho detto, abbiamo giocato, una partita poco ordinata, e senza abbastanza disciplina, accontentandoci, del primo tiro, da terra disponibile, che Trento, aveva scelto, di concedere, e sul nervosismo, in campo, come ho detto, tra Schiltz, Napier, e Heinz, sì, c'è stato nervosismo, perché durante la partita, si sono accorti, che stavamo ripetendo, gli errori commessi, tutto l'anno, e che dobbiamo rimediare, in fretta, siamo qui per vincere le partite, non per altro, e dobbiamo fare quello che serve, per riuscirci, altrimenti sarà dura, ora, quando dice, si sono accorti, che stavamo ripetendo, gli errori commessi, tutto l'anno, e dobbiamo rimediare, in fretta, a maggio, decidiamo di rimediare, cioè, avremmo dovuto farlo, magari, qualche tempo fa, non arrivare, a gara 1, di playoff, e pensare, oh oh, attenzione, stiamo facendo, le stesse, le stesse cavolate, che abbiamo fatto, tutto l'anno, proviamo a rimediare, no, 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 non è adesso, che lo devi fare, l'avresti dovuto fare, molto tempo prima, però, evidentemente, non è stato così, ora, amici, io sono abbastanza, demoralizzata, arrabbiata, pessimista, anche se tutto sommato, penso che poi alla fine domani sera, magari, magari, porteremo a casa gara 2, ma, andate a sentirvi il commento, di settimana prossima, di settimana prossima, di settimana scorsa, quando dicevo, che attenzione a Trento, non mi stupirei, se la serie, non finisse, a gara qua, a gara 3, e infatti, cosa che, è una cosa, che potrebbe tranquillamente succedere, ammesso in un concesso, che l'Olimpia, vinca domani sera, perché se Trento, vince domani sera, abbiamo già, un piede e mezzo fuori, abbiamo già, un piede e mezzo sull'aereo, che ci porterà, nei paesi caldi, a vivere, le nostre vacanze, in attesa, del preolimpico, che, molti, alcuni, non molti, alcuni, dei nostri giocatori, dovranno, giocarsi, per andare poi, alle Olimpiadi di luglio, a Parigi, quindi, che cosa dire, diciamo che, la partita di ieri sera, è da, 4 in pagella, diciamo che, il forum ha fischiato, ieri sera, a fine partita, diciamo che, non voglio neanche immaginare, che se dovesse succedere, l'irreparabile, a settembre, ci sarà di nuovo, questo allenatore, ma non perché io, ce l'abbia con Messina, perché io, le responsabilità, le distribuisco, equamente, tra allenatore, e squadra, perché in campo, non ci va, il signor Ettore Messina, in campo, ci va, il signor, Niccolò Melli, il signor, Kyle Hines, il signor, Shabazzana Pier, il signor, Gian Paolo Ricci, il signor, Billy Baron, il signor, Stefano Tonut, e tutti quelli, che non, non ho meno adesso, perché semplicemente, per motivi di, insomma, per non, rievocare il roster dell'Olimpia, che ben conosciamo, però, serve una scossa, un elettroshock, a questo ambiente, perché, al netto del fatto, che non si sa, chi rinnoverà, chi non rinnoverà, chi partirà, chi non partirà, dell'Olimpia, perché comunque, ci sono molti giocatori, in scadenza di contratto, ma, io, vorrei, sperare, che, dopo una stagione così, visto che non si possono, cambiare 15 giocatori, e, visto che, è più facile, cambiare l'allenatore, mi augurerei, che l'allenatore, non so, facesse un passo indietro, comunque, potessimo portare, aria nuova, aria fresca, aria pulita, sulla panchina, con tutto rispetto, di Messina, anche perché, io dico, che, l'unico motivo, per cui, io, personalmente, riconfermerai, Messina, è che, è per il fatto, che, Messina è un nome, Messina è un nome, e quindi, eventuali giocatori, che, dovrebbero arrivare a Milano, dovessero, arrivare a Milano, sarebbero, forse, invogliati, da un nome, così pesante, come, quello di Messina, sulla panchina, e fa anche rima, quindi, pensiamo al Ciaccio, pensiamo a Hines, pensiamo a Miro, ti c'è, probabilmente, loro sono arrivati, perché, in panchina, c'era un certo, Ettore Messina, che gli ha, dato delle garanzie, che gli ha dato, una certa idea, di gioco, che poi ci sia stato, o non sia stata, questo è un altro discorso, però, gli avrà fatto, un certo prospetto, di come avrebbe voluto, costruire l'Olimpia, e questi grandi nome, sono arrivati, poi se ne sono andati, almeno, Milano, ancora no, Kai Lines, è lì per andarsene, perché probabilmente, sarà l'ultima stagione, compiendo 38 anni, lui quest'anno, il Ciaccio, purtroppo, l'abbiamo salutato, due anni fa, e ne sentiamo ancora oggi, la mancanza, però, ha un suo peso, Messina, nel momento del mercato, però, se, poi il mercato, non dà, i risultati sperati, vedi, Mirodic, pur, sapendo, che Mirodic, non può, giocare da solo, e non può, far vincere da solo, questa squadra, non lo so, una, una certa scossa, come ho detto, forse, sarebbe quello, che ci vuole, inutile stare qui, a fare questo tipo, di discorso, al 13 di maggio, quando ancora, c'è, qualche partita, da giocare, sicuramente, quella di domani sera, e sicuramente, quella di venerdì, dopodiché, vedremo, come, come andrà, se avremo ancora, una gara 4, una gara 5, eventualmente, non lo so, ma, intanto, ci sintonizziamo, e ci prepariamo, mentalmente, psicologicamente, spiritualmente, per vivere, la partita di domani sera, con tutti gli scongiuri del caso, con tutti gli amuleti del caso, ognuno faccia gli scongiuri che vuole, ognuno, si prende i porti fortuna che vuole, però, vediamo, dove ne sarà l'eventi, al Unipol Forum, che questa è la nuova denominazione del forum, che cosa succederà, dopodiché, noi ci ritroveremo, no, innanzitutto, seguiremo la partita in diretta, per live reaction, qui sul canale di click, al quale vi rinnovo, l'invito ad iscrivervi, e ad attivare la campanellina, per non perdere nessuno, dei nostri contenuti, vi rimando, al mio commento, sulla partita di domani sera, scusate, se sono stata, un po' più lunga oggi, ma, la partita di ieri, e la situazione attuale, richiedeva, qualche parola in più, quindi, grazie per essere stati con me, fino a questo momento, lasciatemi il vostro commento, sotto questo video, per farmi sapere, che cosa ne pensate, di quello che abbiamo visto ieri sera, e di quello che vi aspettate, dalle prossime partite dell'Olimpia, e, nonostante non sia, molto di moda in questo momento, forza Olimpia, e alla prossima, ciao! Ciao!